E' arrivata a piedi anche quest'anno perché il parquet del Palace Porta Estra Mario d'Agata di Arezzo è troppo delicato per essere calcato con mezzi di locomozione. Questo non ha certo impedito alla vecchietta più amata dai bambini, la Befana, di arrivare puntuale come ogni anno al termine del tradizionale appuntamento una Befana per la città che da quasi 40 anni il quartiere di Porta del Foro porta avanti. Anche quest'anno grande successo con la partecipazione delle realtà sportive e artistiche del nostro territorio Le esibizioni si sono aperte alle 16 con la scuola basket Arezzo, poi è stata la volta della Chupkis Dance, dalla danza al rigore del Taekwondo ed infine di nuovo alla danza con la Flash Dance di Manola Feira. Prima dell'ingresso della Befana la tradizionale lotteria e i numeri vincenti saranno pubblicati a breve sul sito del quartiere. Ed infine l'amata vecchietta che a cavallo della sua scopa ha raggiunto il palaestra ha distribuito dolci e caramelle ai più piccoli per augurare un buon 2018 a tutta la città.